Hi guys, so Fala Galera, hola chicos, ciao ragazzi come avete visto dal titolo siamo oggi su Black Ops 3 con il nuovo specialista Blackjack ragazzi e le due abilità, vi faccio vedere subito i contratti che bisogna fare come forse già sapete bisogna fare, ci sono sia i contratti giornalieri che... e poi quelle settimanali dove dovete fare in questa settimana 20 partite vinte e 50.000 punti non è molto difficile, basta giocarci un po' qua fioletta, ecco qui ragazzi il nostro Blackjack, nuovo specialista molto molto forte, si può usare per soli 60 minuti a settimana e c'è un motivo ragazzi, dietro questo perché veramente è molto forte vi spiego perché, ha due abilità, cioè due specialità ho rinnegato in cui diciamo l'ultimo giocatore ucciso voi dirubate praticamente l'arma dello specialista e potete anche avere una doppia scienza tra virgolette uccidere un altro dopo, potete prendere diciamo l'arma dello specialista dopo e l'altra abilità è azzardo invece l'abilità che vi uscirà sarà casuale però questa qui azzardo si attiva dopo 3-4 kill mentre invece quella lana rinnegato si attiva dopo 5-6 kill vabbè 5 kill diciamo super giù e quindi andiamoci a giocare un deathmatch a squadra ragazzi per farvi dire quanto cazzo è forte questo specialista perché è veramente illegale ragazzi forse voi l'avrete già sbloccato o avrete già visto qualche video su youtube non so, però ragazzi veramente è fortissimo fridati eccoci qui ragazzi con la specialità rinnegato proviamo questa qui, bisogna fare 5 kill ragazzi per sbloccare poi il... ok sono spanati qua, sono spanati là per sbloccare ragazzi ok ho fatto quello sicuramente troviamo un altro ora ha preso giusto il tempo il suo cazzo di... di approvvigionamento ok ragazzi bisogna fare 5 kill io mi fermo qui perché arrivano tutti di qua ragazzi sì c'è uno qua quindi cerchiamo così di furbizia non arriva ci sono due ragazzi ah con Ripple bravo camperavo più io o tu sicuramente lui ragazzi era in una situazione predominante eh sì davanti e dietro i raps pure contro perfetto ragazzi questo mi piace queste sono le cose più belle della vita ori dai ok ok macchina da guerra abbiamo fatto le 5 kill ora cosa ci sono i raps è un po' problematico usarlo eh quante ce ne stanno porco zio qua non salgono giusto? potremmo usarlo qui ragazzi vediamo un po' ok no 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 i raps non si uccidono neanche così ok ragazzi non abbiamo ucciso neanche uno porca quindi raga questo è 5 uccisioni e possiamo avere l'arma specialista dell'ultimo che abbiamo ucciso poi se non ci piace l'arma giustamente ci sono no di tu ma perché ho ricaricato con 40 colpi cioè sono ridicolo certe volte sono ridicolo quindi ragazzi questo è ora abbiamo 2 kill ma non entrano i colpi raga mi dispiace ma è così la verità non entro i colpi questa mia connessione di merda che in questi giorni va a fare veramente pena è da dietro è da dietro eh si è da dietro anzi no non era da dietro ma ok schianto gravitazionale non uccidiamo nessuno vediamo un po' raga vediamo un po' di prendere qualcuno qui no spariamo noi giusto ottimo timing con l'altra abilità ragazzi invece si dovrebbero teoricamente ma io sto dietro al muro come fa a uccidermi fai dire come ho fatto a uccidermi no ragazzi c'è ridicolo certe volte il suo gioco è ridicolo come ha fatto i colpi di mvp come cazzo si chiama di mp a oltrepassare quel muro cioè qualcosa di assurdo c'è gente con lmx purifier ragazzi dopo le 5 film in questo caso se io non volessi il purifier dovrei fare che cazzo è sto lag vabbè vabbè raga non so che dire che cazzo è ragazzi che cazzo è non l'ho ucciso neanche dai voglio vedere se la due alla sua bisogno ah non l'ho preso giusto eh vabbè eh vabbè ragazzi questo è il bello di black ops non si capisce un cazzo lag a morire il ping 149 so che è una cosa che voi umani non non immaginate che cazzo è questo e me l'ha rubato e questo viene da dietro vabbè raga passeremo subito alla prossima cazzo di di partita perché sinceramente non ne ho voglia non male che rumbo di qui il jessic si bugga pure ottimo abbiamo 3 kill ci manca l'ultima dai vieni che entri sicuro granata di merda sempre così abbiamo perso raga ci vediamo alla prossima specialità ragazzi scusatemi se lo share mi ha dato problemi purtroppo ho dovuto registrare 3 volte questo deathmatch l'ultimo che mi è uscito è mi è uscito per metà diciamo gli ultimi 6 minuti del deathmatch è stato questo con la nuova abilità in pratica ragazzi ora vabbè li lascio a live che ho fatto però in pratica questa abilità ci vogliono 3 kill su per giù per prendere un'abilità casuale un'arma casuale che però in questo caso sono solo 5 o 6 se non mi sbaglio sono tipo carazza cinetica impulso visivo glitch mimetizzazione queste qui che non sono armi ecco e quindi in questo caso potrete con un minore numero di kill però usare tutte queste specialità in un unico specialista ecco con un unico specialista è molto forte anche questo però io probabilmente preferisco l'altro cioè quello con cui diciamo si possono rubare shit scanto gravitazionale macchina di guerra eccetera vi lascio a vivere torretta ragazzi 180 putter right dobbiamo giocarcela bene assolutamente facciamo stronzate va a star laggando un pochino il ping sta a posto abbiamo psicosi lo siamo non so dove cazzo sono di qui vediamo se il compagno muore si psicosi usata dove cazzo hanno gli omini uno fatto si si bright ragazzi è fortissimo questo questo cazzo di cosa ragazzi è fortissimo siamo 17 e 2 buono così mettiamo la torretta qui tattica ancora un'altra uccisione raga vediamo un attimo un po' come come funziona qui veniamo da qui ah lagga un po' raga ucciso con il bright ucciso con la torretta bene così oh che cazzo è questo glitch ragazzi abbiamo un glitch lo usiamo si mi piace così dove cazzo è ah cazzo raga mi ha ucciso eravamo una buona serie e la torretta fa il suo lavoro si grande torretta grande vediamo un po' raga dove spawnano ora stanno spawnando i compagni di qui quindi probabilmente oh che cazzo gente che se ne va gente che quitta rpg 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 2 muri dai bravo right oh cazzo non mori non mori non mori non mori dai torretta dai torretta ok stanno facendo il giro di lato come facilmente morto mamma ragazzi come lag come cazzo lag c'è una connessione in questi giorni che fa pena vediamo un po' dove sono spawnati impulso visivo niente raga come vedete abbiamo specialità continuamente ragazzi di continuo cioè è una cosa assurda UAV 0 da qui a meno che usino fantasma però no ormai sono rimasti in due raga l'abbiamo fatti quittare in una maniera esagerata che cazzo sto sparando ah questo qua la balestra l'ho umiliato è inutile che usi le granate che cazzo è ok l'hai preso abbiamo overdrive questa è aspetta un attimo prendo la balestra si 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 godo abbiamo sciacallo no no cazzo ragazzi sono 35 colpi mi hanno messo sciacallo allora cambiamo cambiamo questa in corazza cinetica ok perfetto perfetto mi piace mamma mia ragazzi come lagga però che l'ho usato proprio a tempo solo 13 colpi raga prendiamoci questo cuda a terra corazza cinetica disattivata oh cazzo dove cazzo è ah ci ha ucciso raga 45 punti alla torretta porca Eva comunque sta facendo un macello incredibile arriviamo almeno alla 40 kill in deathmatch non sarebbe affatto male ah di dietro eh troppi troppi raga troppi troppi cioè sia di lato che da dietro non facciamo troppe kill stupide ora cioè troppe troppe morti inutili ah bene bene no raga questo col lanciarazzi dai però che tristezza abbiamo un pulso visivo vediamo un po' che sono qui abbiamo fatto 3-4 decisioni cioè 3-4 morti veramente evitabili raga basta con sto coso basta sei ridicolo sei ridicolo dio santo dai mu e allema di ragosto che cazzo hai questa abilità psicosi vediamo un po' raga eh 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 mi disp mi disp è morto oh cazzo non ho visto questa raga potevamo fare l'ultima feed l'ultima serie finale quello che spara il mio compagno spara a casa così e vabbè raga abbiamo fatto le 40 uccisioni no raga che cosa ci trovo quello mamma mia quello che lancia raga abbiamo fatto le nostre 40 uccisioni lo spacist è veramente forte raga vi consiglio di sbloccarlo lo avete come vi ripeto per 60 minuti soli arriviamo a 500 like per questo video ci vediamo alla prossima ragazzoli è nice